Potrebbe sbloccarsi già sul finire di questa settimana la questione Aias a Diamante. L'assessore al contenzioso Pierluigi Benvenuto ha convocato per venerdì prossimo i rappresentanti dell'associazione e i legali che stanno seguendo la vicenda dello sfratto per trovare un punto di incontro. L'obiettivo oggi è quello di arrivare ad una transazione data l'importanza della struttura e dei servizi offerti non solo per la città di Diamante ma per tutto il comprensorio. Si parte però dai dati di fatto, ovvero la sentenza giugno 2013 con la quale il Tribunale di Paola disponeva il pagamento da parte dell'Aias di poco più di 91.000 euro per canoni di locazione non versati, negava il rimborso richiesto dall'associazione per lavori effettuati sugli immobili di proprietà comunale e disponeva lo sfratto in data 30 settembre 2013. Lo scenario ipotizzabile potrebbe portare ad un accordo che, previa rinuncia della discussione del ricorso dinnanzi alla Corte di Appello fissata per il prossimo 19 dicembre, dovrebbe prevedere la dilazione del pagamento da parte di Aias della somma prevista dalla sentenza e contestualmente il comodato d'uso gratuito dello stabile per un numero di anni da stabilire in fase di transazione. Si cerca di tornare sui binari del buonsenso considerando il valore del servizio ma anche del bene pubblico che in quanto tale deve essere gestito in modo da portare un'utilità reale alla collettività. Dilazionare i 91.000 euro in un numero di anni congro sarebbe come ripristinare una sorta di fitto senza gravare troppo sulle casse della Onlus e consentendo di garantire le prestazioni e il livello occupazionale.